Com'è stato dirigere questo film e soprattutto Rovazzi? È stato facile, difficile? No, è facile se fai partecipare tutti alla sostituzione del film. Diventa difficile se fai partecipare la tua e decidi che le cose devono essere come noi diciamo tutti. Invece, no, no, è stato molto tranquillo e poi il padre è stato... Le tue storie, le storie che dirigi sono sempre in realtà storie in cui tutti gli italiani si possono immedesimare, però poi c'è sempre un sottotesto secondo me molto chiaro, sembra un po' un filo comune, però sembra un po' la chiave di lettura attraverso cui il pubblico poi secondo me si gode la storia senza tralasciare magari il resto. A me non piace fare commedie che non hanno un senso contemporaneo e soprattutto che non hanno una doppia lettura, quindi mi viene naturale raccontare tutto ciò. Giusto, grazie mille. Grazie a tutti.